Dalla disostruzione delle vie aeree alle operazioni di primo soccorso, il Comune di Napoli investe sulla sicurezza dei bambini a scuola e promuove a partire da oggi un percorso formativo sulle manovre di rianimazione in età pediatrica. Sarà rivolto alle educatrici degli asili nido comunali che con l'ausilio di personale specializzato dell'azienda ospedaliera Santo Bono Pausillipon impareranno ad intervenire in caso di emergenze sanitarie. A tal scopo sono previste lezioni in aula e simulazioni su manichini per gestire tempestivamente un arresto respiratorio e cardiaco e fornite nozioni sulle urgenze pediatriche più frequenti come la disinfezione di piccole ferite, febbre, ustioni e convulsioni. Impareranno tutte le manovre necessarie sia per il primo soccorso sia per l'eventuale occlusione dovuta in gestione di cibi o di altro ma anche le prime manovre di defibrillazione e tutto quello che può servire quando accade un incidente o c'è un momento diciamo di crisi della salute. Articolate in due moduli le lezioni si terranno in un'unica giornata presso la sede di via della Croce Rossa 8 del Santo Bono Pausillipon, struttura pediatrica di eccellenza risultata la più idonea a questo compito tramite avviso pubblico promosso dal comune. Dal 4 al 12 settembre è in programma la prima settimana di formazione che dal prossimo anno sarà estesa anche alle scuole dell'infanzia. Questo è l'anno delle educatrici e nel 2015 sarà l'anno delle maestre perché quando le mamme lasciano i propri bambini anche piccolissimi nelle nostre scuole possano avere garanzia che quei bambini non solo sono assistiti ma che ci sia stata nel frattempo anche crescita professionale da parte dei operatori scolastici. Tra i primi comuni italiani questa intesa, questa convenzione importantissima tra il comune è l'azienda Santo Bono per insegnare alle maestre dei nostri asili nido, alle maestre delle nostre strutture le tecniche di primo intervento quando c'è un inizio di soffocamento dei bambini e anche tecniche di prevenzione. Quindi in questo modo si fa la cultura della prevenzione, si salvano vite umane. Una bella cosa ringrazio i tanti medici e infermieri che insieme a noi stanno in prima linea per aiutare i figli della nostra città.